Leggo in un post che trovo pubblicato nel web quanto, dice Laura Frigo, che è un medico, quanto scrive, su come si fa politicamente a passare da un sistema sanitario pubblico ad uno privato senza dirlo ai cittadini, come si fa a chiudere reparti facendo finta di non chiuderli, come sta facendo zaia in Veneto. Lo leggo e poi dirò anche qualcosa in più, secondo me, che forse vale la pena sapere. E scrive, lo fai un po' alla volta, lo fai obbligando i professionisti a pagarsi l'assicurazione da soli, così tagli quella spesa. Poi non assumi il personale dove serve, poi non paghi gli straordinari o gli acquisti e di prestazione, dicendo che li pagherai più avanti. Intanto i medici si trovano a spendere soldi per assicurazioni, non avere più straordinari pagati e ad essere sempre in meno a fare lo stesso lavoro che copre 24 ore su 24 tutti i giorni. Poi dai direttive come in fabbrica, pretendendo una visita ogni 10 minuti, quando ne servirebbero almeno 20 in media, per avere il tempo di dire buongiorno e buonasera. I pazienti sono scontenti perché aspettano, si innervosiscono, aggrediscono, i medici che si trovano pagati male o addirittura con ore non pagate, con turni di lavoro impossibili, pazienti nervosi ed aggressivi che fanno causa per mille motivi e la tua azienda non ti copre. E vai, di spese legali. Le liste di attesa si allungano, la gente va nel privato. La regione intanto fa convenzioni col privato, aiutandolo. Così i medici si rendono conto che lo stesso lavoro viene loro pagato il doppio da un'altra parte senza fare dieci notti al mese o avere impiegati due weekend su quattro. In tutto questo i medici sono pure pochi, perché un imbuto impedisce ai neolaureati di specializzarsi. E a un certo punto tra pensionamenti e licenziamenti non hai più medici e il reparto non c'è più, come ginecologia a piove di sacco o pediatria a Campo San Piero. Pian piano tagli i servizi territoriali, appaltando alle COP per non assumere nuovi infermieri. Dai un disservizio alla popolazione e tanti infermieri neolaureati vanno in Inghilterra o in Germania. O vanno nel privato, che cresce pian piano al decrescere del pubblico. Questa è stata la strategia di gestione del sistema sanitario veneto di Luca Zaia. E non sono stati avvenimenti casuali, è un uomo troppo intelligente per accusarlo di incapacità. È stata proprio una sua scelta, condivisa dalla maggioranza in Veneto. Quello che non sono sicuro invece è che i cittadini veneti lo avrebbero votato convinti che avrebbe fatto tutto ciò. Laura Frigo Io dico però che le premesse c'erano già da prima che Zaia diventasse governatore del Veneto. Il terreno era preparato, no? E lo fai a partire dagli anni, dalla fine degli anni Ottanta, con l'introduzione del ticket sanitario. Governo ademita con decreto legge del 23 marzo 1989, poi convertito con modificazione della legge 27 aprile 1989. Il suo ammontare è stato più volte modificato nel corso del tempo. Comincia a introdurre il fatto che ti paghi la prestazione. Togli la formazione del personale paramedico dagli ospedali per trasferirla alle università. Un'infermiare professionale usciva formata a 19 anni, nel posto dove subito dopo avrebbe potuto cominciare a prendere servizio, posticipando di anni, quindi l'ingresso al lavoro. Poi modifichi il sistema pensionistico, costringendo soprattutto gli infermieri a prolungare il lavoro oltre i 60 anni. Si tratta di un lavoro stressante, fatto di turni, domeniche, grande responsabilità, costringendoli a molti compiti non più solo assistenziali, ma spesso anche burocratici e di rilevamento dati. Parametrizi come in fabbrica prestazioni, tempi di leggenza, tempi di assistenza, sia medica che infermieristica, correlandole a finanziamenti forniti alla struttura. Aumenti progressivamente il personale amministrativo, a scapito del personale sanitario, e limiti l'accesso alle strutture, con elaborate strutture di prenotazione, i famosi CUP. No, li vediamo adesso affollati da tanti sportelli e da molta gente in attesa. Affidi molti servizi a cooperative esterne, mense, pulizia, trasporto malati, ambulanze. Alcune funzioni le affidi anche al volontariato. Sostituisci solo parzialmente i pensionamenti o i trasferimenti di personale. Non affronti e non crei una omogeneizzazione tra i rapporti di lavoro del personale medico ospedaliero, dei medici di famiglia. I medici ospedalieri hanno un rapporto dipendente, come gli infermieri. I medici di base hanno un rapporto convenzionato. Sono pagati in base al numero degli assistiti. Consenti ai medici ospedalieri di svolgere sempre più attività libero professionale intramenia ed anche estramenia con rapporti di lavoro a tempo parziale. Quindi medici che stanno nel pubblico ma lavorano anche privatamente. E quindi è facile che, lavorando nel pubblico, si portino poi privatamente il lavoro a casa. Non definisci i tempi da dedicare alla diagnostica e agli ambulatori per gli esterni da parte dei reparti ospedalieri che quindi riducono l'attività per gli esterni, visto la scarsità del personale, e poi la debbiano verso il privato, sia per la diagnostica che per le visite specialistiche, per esempio. Non disponi che ci sia un'adeguata comunicazione tra i medici di base e i medici ospedalieri in modo che i pazienti poi si rivolgono preferibilmente al pronto soccorso in caso di patologie di una certa importanza. Non adegui gli stipendi a quei medici ospedalieri che scelgono di dedicarsi a tempo pieno all'ospedale e quindi scelgono di non fare attività libero professionale. Un medico di base inoltre guadagna mediamente di più di un ospedaliero e ha anche meno responsabilità, dico io. Sposti gli investimenti su attrezzature strumentali, costose e privilegi un atteggiamento tecnicistico per cui disincentivi poi i medici a parlare e a visitare i pazienti, ma fai sì che si servano fondamentalmente per la loro attività della diagnostica, degli esami strumentali. Vado a fare una risonanza, poi ne parliamo. Costringe a lunghi tempi di attesa per cui i pazienti sono costretti a rivolgersi al privato. Chiudi servizi e non attivi servizi come la riabilitazione funzionale, fisioterapia e varie terapie fisiche. Eviti di organizzare e coordinare gli acquisti di attrezzature, presidi e farmaci per cui il pubblico paga gli strumenti, il doppio o il triplo dei costi reali, dato il ritardo dei pagamenti. Questo succedeva anche negli anni 90. Costringe a bassi tempi di degenza, per cui la diagnostica preliminare viene fatta ambulatorialmente, ricorrendo più spesso al privato e quindi al pagamento. Oppure costringi a ticket diversi, quindi a sopportare vari ticket per ogni esame che viene fatto, anche nel pubblico. E quindi si fa strada sempre più una conflittualità tra pazienti scontenti e medici ospedalieri demotivati, che sfocia in denunce e quindi in una medicina di difesa, che ha notevoli costi economici, sia per pagare assicurazioni e affrontare processi, ma anche per tutta una serie di prestazioni ed esame inutili che vengono richiesti al solo scopo di tutelarsi, da parte dei medici che sono esposti e non più coperti anche dalle strutture, e che ha per corrispettivo un intasamento dei servizi e un ulteriore allungamento dei tempi di attesa. Le strutture private, anche nel Veneto, cominciano ad esistere e crescono progressivamente, diventano tante, molte, molte. Sia per la diagnostica, esami di laboratorio, strumentale convenzionata e privata, sia per visite specialistiche, riabilitazione, piccoli interventi. I medici imparano che è più vantaggioso e meno responsabilizzato operare in queste strutture, strutture private. Voglio farci pagare un piccolo interventino, magari per un'artroscopia 4.000 euro, alcuni minuti o poche decine di minuti di prestazione, piuttosto che stare in sala operatoria per un mese, in primario, chirurgo, a 5.000 euro al mese, no? Per un mese di lavoro, in ospedale. La gente impara che se vuole accedere in ospedale per un problema urgente, deve passare prima per l'ambulatorio privato del primario, dove paga la breve visita profumatamente e possibilmente in nero. Anche la comunicazione tra i pazienti e i medici ospedalieri viene filtrata e resa molto più difficile rispetto a una volta, dove magari bastava telefonare alla segretaria del reparto, chiedervi di parlare con quel medico e te lo passava. Adesso non è più così, ci sono dei filtri insomortabili e non riesci a parlare con il medico che vorresti contattare attraverso il centralino dell'ospedale. La prova è anche fatta personalmente. I medici non si fanno trovare e non parlano più al telefono. Ciò nonostante, la spesa per le strutture pubbliche non diminuisce, ma aumenta e le vecchie strutture diventano obsolete. Allora si devono costruire nuovi ospedali che di necessità si costruiscono con finanza a progetto, con investimenti di privati che poi vengono rimborsati in modo garantito al tasso di interesse del 7-8% all'anno. Caso tipico l'ospedale di Mestre, caso pilota e modello di Project Financial Ospedaliero in Italia, che è diventato un buco nero per le casse pubbliche. Il nuovo ospedale infatti ha costato 230 milioni di euro, di cui 124 pubblici e 106 privati, ed è stato completato nel 2008. Prevede un canone annuo a favore dei privati di 72 milioni di euro. Dunque la pubblica amministrazione costa in tutto per 23 anni 1.780.000.000 di euro. Queste notizie le trovo nella stampa. L'ospedale dell'Angelo di Mestre quindi è un caso pilota, e lo rimane, ma è seguito da molti altri, di come non dovrebbe comportarsi un'amministrazione pubblica nel costruire operazioni di concessione, di costruzione e gestione. Faccio notare che l'ospedale di Mestre paghi anche il parcheggio, un euro all'ora. E quindi gli ospedali finiscono per diventare poi molto decentrati rispetto a dove abita la popolazione che servono, fuori dai centri abitati, e sono destinati a diventare come un po' le stazioni ferroviarie, dove, oltre a fare della medicina, diciamo così, si vende di tutto. E con tutto ciò però la spesa sanitaria pubblica aumenta e aumenterà. Ma a questa spesa, che il cittadino si sobbarca mediante le tasse, poi dobbiamo aggiungere anche la spesa che il cittadino sopporta per curarsi privatamente. E' una spesa che sale sempre di più. Come penso ognuno di voi può constatare. Ricordo che prima dell'89 l'accesso all'ospedale e agli ambulatori di diagnostica, visite specialistiche, era gratuito. Bastava l'impegnativa del medico di base. I tempi di degenza in ospedale non erano contingentati e il paziente veniva dimesso dopo che erano stati affrontati e, se possibile, curati i vari problemi di salute che presentava. Quindi se ti ricoveravi per un appendice e magari avevi anche mal di denti, ti veniva curato anche il mal di denti in ospedale, insomma, oppure avevi un altro problema, ti veniva curato anche quello, veniva diagnosticato e curato anche quello. Magari l'ambiente era un po' meno confortevole, ma mi chiedo io a che serve avere più conforto alberghiero se poi il tempo in cui tu rimani all'ospedale è di poche ore o di un giorno o pochi giorni al massimo. Una buona giornata.